Anche oggi le zone terremotate del cratere Emiliano, la situazione è ancora molto difficile, ovviamente il sistema burocratico messo insieme da Irlani non sta dando i frutti sperati. Stiamo proponendo agli elettori per risolvere questo problema ovviamente di partire e di ripartire con un nuovo sistema che si basi ovviamente sull'ordinanza esistente, però che sia meno farraginoso e sia meno burocratizzato. Abbiamo fatto anche un'interpellanza a livello europeo per quello che riguarda l'ordinanza 71 che mette in ginocchio le aziende agricole del cratere, in quanto la comunità europea non avendo dato la proroga sui fondi messi a disposizione, questa ordinanza va a imporre agli agricoltori di presentare i progetti entro il 31-12-2014 e di andare a rendicontare i lavori entro il 31-12-2015, il che ovviamente blocca completamente la ricostruzione. Abbiamo chiesto appunto una proroga e spero appunto che venga accolta la nostra richiesta. Così come sta andando non va bene, è ora di prendere in mano la situazione e di costruire veramente e decisamente puntare appunto per una ricostruzione più semplice, più snella e meno burocratica.